oddio non lo capisco installa gli shader per ottimizzare in corso si ma l'ha fatto oggi già cosa l'ha fatto? che lag che sento me li sta ristallando io ho giocato oggi fino alle 7.20 circa anche io ho giocato fuori live tranquillo, arrivo qua mi siedo, leggo su telegram ah c'è del peggio 8 gigabyte, ma come? io ho fatto la stessa cosa mi sono messo a giocare chiudo il deathmatch perché dico stai iniziando la live, mi preparo e poi inizio a scaricare 8 gigabyte ciao a tutti belli ciao a tutti fantastici e se nessuno aveva la fibra figuravamo la fibra non facevamo code adesso la settimana prossima Moro mi ha detto che ha scaricato 5 gigabyte ancora, quindi vuol dire che veramente ci metterà una settimana ma poi è così come da fare? ha fatto solo 5 gigabyte quindi per dire quanto ci metterà ancora non è quello che sei migliore della mia Marco? io? sì ma è possibile cosa? è tanto scorsi ma ha detto Moro, no Marco? ah Moro! grazie Giorgi grazie Giorgio ma io mi chiedo, 8 gigabyte ci stanno? no? no ma ha detto che non ha scaricato tutto il pomeriggio però perché ha dovuto fare anche altro eh c'è la medieval no no ma l'aveva già scaricato medieval doveva fare altro ma c'è la PCD1 non ho detto non ho detto che non ho detto io dovunque c'è la PCD1 12 gigabyte tipo questo giorno mamma mia no ma non credo abbia scaricato tutto il pomeriggio effettivamente tutto il giorno perché comunque ci mette per 125 gigabyte ci mette tipo ma grazie Ferris finalmente riesco a seguirvi di mattina ma come? 48 ore ci mette in modo? ah quello che ho preso io stamattina esatto Ferris ah comunque capisco gli 8 giga ma perché installare gli shader di nuovo? l'ha fatto già stamattina sui stessi oggi mi ha fatto quattro volte eh non l'ho capito cazzo sono tornato grazie Grizzly tanti auguri a noi eh ma io ci sono la PCD1 non ti fa giocare se non la fai grazie quindi buonasera buonasera a tutti bellissimi ma io della webcam ci sono Marco o che? si? ok no perché non lo so perché sto controllando sto tenendo d'occhio la cpu e la memoria se ne sta lo di shader per un attimo era andato a scattire ah no ha finito di installarli comunque se avete un pc tipo il mio cioè con un processore di 5G fa 8 giga di ram fa molta fatica no il gioco funziona eh il gioco funziona bene non facciamo le live unificate con gatto anche perché dopo devo uscire se no l'avrei fatto volentieri ho detto Marco se vai tu a destra su quelli sfide o sui multiplayer ho detto che ci sono anche le missioni che io mi credo ho viste si io l'ho fatta a caso alcune eh ho boh ho messo ho messo se è una skin o se è un'arma ah boh eh mi diti Marco che tanto facciamo noi si ho messo una che mi ispiravo ho detto boh prendo quella ma io ti ho Liezer eh penso di si e sono 21% che scheda grafica hai Liezer Liezer? Liezer? sì attualmente è perché sento ogni tanto parte la c'ho tutto al minimo la presidenza ah la scheda grafica c'ho la 70 ma il fatto il problema è che la scheda grafica il fatto è che la scheda grafica comunque se non hai un processore buono non è che può fare miracoli eh no chiaramente ci sei Liezer? più o meno prova se non risponde perché non sento bene quindi eh cosa vogliamo non fare? grazie Matt Matt grazie mille 5 mesi vogliamo togliere qualche modalità e farne solo alcune o? oggi di stamattina sicuro quale togliamo? com'è? attacco informatico? forse farei male 20 30 quartiere generale cerca distruggi attacco informatico qual'era delle tre? ehm togliamo tutte e tre per sicurezza facciamo un minimo di fare? no le modalità quelle diverse vabbè cerca distruggi in realtà si potrebbe anche fare no cosa che non vuoi fare Marco non lo so questa mattina ma non mi ricordo se quartiere generale o attacco informatico ma ma asciutti quante via ma sì vabbè no poi stamattina c'è un po' togliere la cerca distruggi Marco non è che era quella perchè è lenta eh io l'ho lasciata anche quella lì eh no togli quella e lasciare le altre piuttosto togliamo cerca distruggi dai le altre lasciali Marco le altre sono belle le sono code normale no stamattina c'era cerca distruggi che era un po' pesante perchè è tipo grande strike quindi comunque molto più tattica e molto più lenta no ma non era neanche quello il problema che stavamo morendo e basta che mi stavo rompendo le tasse sì a parte quello vabbè però perchè è difficile a me vettela infatti che oggi ho fatto una parità di già che suggerivamo io sul pc condo tutti su console ho detto ma perché io faccio schifo comunque amici che hanno un'automira di merda su console c'hanno un'automira c'ha no x6 che ci deve essere comunque un pc buono in generale oh deathmatch dominio anzi piccadilli ancora l'ho fatta duecento volte solo che adesso ho un buona fine perfetto affatto eh ormai siamo qua ma siete già partiti? no però siamo nella lobby vuoi che usciamo? eh sì c'erano due secondi nel lobby eh cosa che era? il gioco che si vedeva metà nella lobby era un ah non so era battlefield era battlefield boh era 25 che ci vedeva metà nella lobby e poi avevo ricevuto un chat ma a me non sta cercando nulla però no 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 ho tolto io ah ok tolto tolto adesso entra Esprit e te li facciamo ho tolto solo cerchi e distruggi comunque no cosa no? Esprit? Esprit? ah sto dispendendo un chat matto ah ok perché siete tutti pazzi oggi ho dato un secondo dato ho dato un secondo perché è un po' uno spam quello è dato un secondo dato quindi tecnicamente poi che non ci ha voluto ma io allora stamattina ho fatto l'errore di rispondere a troppe domande però corda non agisce corda è inutile no no non era uno spam? l'ho fatto io? eh ho sbagliato eh in caso mi scuso ho sbagliato era un secondo comunque non è che era tanta roba in caso io lo scuso in caso se non era l'ho fatto da avere nato aperto a me c'è scritto moderato non lo so completamente a caso non ne ho idea ma anch'io sono aperto ma non so ma non cambia nulla come veci a me nella mente era moderato da essere aperto poi l'altro giorno non so ha chiuso un giorno probabilmente no guarda c'è un nome in chat che è al limite della bestemmia io ti lascio ma al pelo eh no è veramente al limite non è la bestemmia non è la bestemmia eh no ma so che non lo è però boh sei al limite ho difficoltà dal telefono ma ha detto stamattina ho risposto a troppa gente che non dovevo rispondere che comunque mi carica rapidissimo la partita oggi non ci ricasco il squad porta anche gente che non mi piace chi è? ah sì ah no vabbè così Giorgio no vabbè va bene Giorgio eeeh no più che altro cosa devo dire io non so che cosa devo dire io ah le porte aprire le porte non c'era una seca o comunque grafica al minimo non è malaccio eh vabbè perché penso che ormai è Mv2 praticamente è Mv2 beh aprire le porte l'ho fatto un sacco di volte per altri giochi e non ha mai funzionato amici io faccio schifo vi avviso eh manco ma devi fare come me oggi fare 20 kill consecutive può morire mamma mia e infatti è colpa mia lady l'ho detto sono qua eh dove sono io io non devo correre ho visto anche giocare la gente più brava e non bisogna correre in questo pod ma comunque stanno a ma che cosa dove? e sono C infatti sono andiamo a vedere no prendete l'arma a tre colpi con la base è fortissima è veramente fortissima ma il M4 mi piace un sacco il M4 il FAMAS cos'è? è veramente forte ecco ecco sapevo io eh ci sto provando Elina ho cercato di modificare un po' alcune cose in modo tale che riesco a tenere occhio mi piace passare ho visto l'ombra ho visto l'ombra ho visto l'ombra però bellissima ho visto l'ombra ma comunque sono al limite però mi ti spazzano qualcosa mi spazzano ma fatelo morire quello vai ad ora ho il Garnal hai preso A? di qua dove si va? non ci sono a parte qui tu qua eh? AIA MA PORCA sono tutti qua ho giusto una persona ucciso porca puttana ho due o viro che paura chi è? sono ucciso non ho più colpi m**** ahhhh che arrivo a sinistra tutti senza problemi marco non ho più colpi sinistra arriva no? ma arestra arrivano eh niente non ho colpi ma moro a sera fa may dvv scusano due may dvvv ma master e 2 ma no arrivo subito Lo fa alle 23 Io faccio veramente fatica a leggervi però Fa alle 23 lo fa Come facciamo? Buonasera Stavo scritto qualcosa Moro sul... Lo stavo colpendo Buonasera Sono Esprit, prendo il punto mi raccomando Posto? Marco Dislessico Ma cosa? Sono il primo Che paura Questo è il nemico Fanno sbrandella qualsiasi cosa Bello il nemico E assiste l'altro Magari dopo lo proviamo dai Che l'ho usato un po' Sì bravissimo perchè Questa amore Comunque allora così non mi laggare anche l'audio Quindi va bene Era quello lì il problema E riesco a tenere la webcam Sì Non ho aperto Non ho aperto Neanche streamlabs 8 giga di ram Adesso sono proprio al limite Sono E anche la cpu Oggi stamattina Ho fatto Madonna Oh cosa è successo? Ma non ho niente forse Ma questo code molto figo A me no A me è stato piaciuto un sacco Le happe Le mappe sono un po' così Però il feeling così è molto figo Sto spaccando gli assi Outerwards ce l'ha esprit Ma non credo lo faremo in live E mi spiega No Però comunque È un gioco single player È un gioco single player È davvero molto bello Pedibola di Seven Knight Pedibola alle 23 circa Si cambia orario Si fa i cazzi suoi Ma è questo code Al punto a noi sta piacendo Le mappe sono un po' così 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 La campagna l'ho giocato un po' di notti Per come inizio Mi è piaciuto un bel po' Vabbè per code La campagna è sempre Sembrava bella Ho visto anche io qualche video E non sempre Con le nuove nuove Beh però bene o male Deludono quasi mai in realtà Il culo Io ho sentito qualcuno qua Sono pazzo Quanto fare no E' tolgo Mark ricordati che con la X Recuperi i colpi e le bombe Avete ragione Non l'ho mai usata quella cosa lì Mi dimentico sempre E io ho l'ispensabilità che Sono più cinzioso Non se nemmo una cosa Non è morto Non ci credo Eh Quando manchi il colpo con Quello d'altro colpi Quanto la campagna non lo so Può essere già già online Probabilmente La campagna tornerà sulle auto di suore Presù auto-beat O long to beat O long to beat Scusa Ma forse anche meno La pistola di take down Si la secondaria sembra la pistolina La liquirizia Voglio fare una kill con questa pistola adesso Amici sono imbattibile con questa pistola Pistola di calcio Ma sto cretino Scusa Amici basta challenge Pistola Pistola Pistolina Pola di pulizia Vediamo come si gioca Marco Erano qua Erano qua Mattà Eh sì Quando sbagli la fiuma lafica di tre colpi si è morto Cioè O mi devi bene o niente Poi tra l'altro in questo code qui si muore abbastanza in fretta Ma ho visto una scritta rossa Però sei andato uno qua Non ce l'ho proprio perso Ah è lì sulle scale Bastard Ecco Erano qua Marco eh Occhio Si gli spacco la faccia E' sparito Ecco era qui Mark è il v-sync attivo? Non lo so Ah da quello che ho visto te lo da come disattivato se non lo cambi Ok E anche il mostro blu l'ho attivato eh Quello l'ho tolto Da tutte le parti Sia dall'arma che dal Ma non c'è nessuno secondo me Ma non c'è nessuno secondo me Niente Non ce l'ho un po' schifo qua L'hai ucciso Mark Staccale il cavo da connessi Davvero? Il wifi stacca il cibo L'ho ucciso prima No Ma c'è nessuno sia pure in mano Spero se lo fosse male a lui invece da Ah ovviamente c'è il gioco e vuole provare a unirsi Quando gioviniamo noi in partita Provate a giovinare anche voi E' dietro è E' dietro è Niente non l'ho ucciso Dai Ma cos'era? C'era nella kill Fido ottimo Ah ma c'era uno di dietro c'era E' un po' schifo sto facendo Sto bene Però comunque Siamo ok Non c'è mai dei miei punti Ah Preferisco il detto verso la squadra classica Porca miseria No vabbè questo qua E' tutto tattico Perché Brutta Brutta partita Tu vai sprizzando molto bene Ma porca Ma questo cazzo Ma che dove c'ha poi? Uccidì 280132 Che cos'è? Cos'è fiscale? Ma perché ho questi dove? Sto correndo di nuovo Non devo correre Ormai stasera non c'è moro Fa medivole Non ha scaricato il gioco Ok Non credo neanche lo scaricherà per la prossima volta Mi sa fare avanti così Uuuuuh Ah Niente Vole merda stanno andando Ma ma aspettato veramente Ma che camp Sì c'è 8 giga di patch Sì c'è 8 giga di patch Ma questo è fumo? Il problema è che le persone sparano gli elmetti E neanche una volta roba Questa cosa fa di colta eh E' rimasta dagli anali Ma i gas Qui sono 6-20 Ma che schifo sto facendo Ma questo è un problema Perché non riesco a prendere i punti Perché sono troppa gente Esco a die E mi sciottano E ovviamente non uccido Ah fa' buc' E mi spacciono i colpi E muori Perché solo con pistola Se non cerchi di fare una Non ho capito mai Ma questo è un problema Eeeh Eeeh Non so Sto morendo e basta io E' imbarazzante Proviamo a prendere C Noi va Marco prenditi un'arma che non c'è a pistola No ma non la sto più usando adesso Ok Sto morendo e basta C'ho parla lasagna E' un pain pack E' assist pure vabbè Altro No il bombardamento Aiaia Ando Uovi Poi senti il rumore fortissimo senti Si senti il rumore ma non appare Ah ma senti molto forti il rumore No ma non appare E' schifo No ma non è schifo No ma non è schifo C'è la noppa quella con un sacco di gente ma non mi ricordo Mi schiavo Non lo manco io mi ricordo Ragazzi ma perché COD attira Non ho capito Adesso Non lo so Leggo cose imbarazzanti Ah vabbè Quello non è marco perché COD Tocco vecchio Mi attira persone Ah ho capito Di tutte le età Mi spiazzi insomma Ma più non è io Buonasera belli Buonasera Sono sboccato Infatti che Mi piace questo COD Poi che è ultra dettagliato comunque Nelle cose, nelle presentazioni anche Molto più degli altri Molto più robo secondo me Perché faccio un po' di punti Adesso cambiamo arma magari Questo Buonasera 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 Cos'è? Ma che schifo Cos'ha detto? Ancora Ma sto facendo sempre due mappe io Due mappe Sempre SS2 Aspetta che modifico Cos'ho giù bloccato Massima neve Vero questa qua Fa anche cagare sta mappa Io provo il cerchino ragazzi Mi spiace Me ne pentirò Ottica di cognizione Non mi piace E venerdì il cervello è già in fe Mocca macca Non vi è modo di poter giocare con voi E se lui stai Deve riuscirà Che quando unigeno avrà partito Devi generare anche tu e sperare Che non sta No, voglio provare un po' di cecchino dopo Mark Guardi Ho sbocato un cecchino nuovo No io c'ho quello Il primo probabilmente fa Veramente Ma non c'era anche qua Ma non c'era anche qua Non l'avevano portato Si l'ha messa qua Si l'ha messa Si si l'ha portata qua Fatta Facciamo le personalizzate Ma hai fatto l'eventuale ritorno della sfida di Mark La puoi fare qua Ma Marco Tanto c'è il crossplay no? Eh adesso si C'è anche il crossplay Marco però Nioh niente deve streammare Perché sennò Ognuno di WS viene svantaggiato Come sempre Perché chi stremma Si fa che gare poi Vabbè ragazzi È stato un ottimo Stato divertente Cambiamo arma Ne proviamo un'altra Mi sono dello spawn Proviamo questa qua Ah dove sono qui Ma che torna a chiuso Penso ci siano tante partite Ma scusa ma dove sono tutti? Non ci sono Dall'altra parte esattamente Probabilmente E' il crossplay che è molto bello E' un crossplay che è molto bello E' un crossplay E' un tipo 15GV di patch Ma hanno detto Peccato Chi era? Maurizio Cottanto 27 mesi Grazie Maurizio Come è parso? Ho fatto un assist C'è qualcuno qua in giro Ma non lo vedo Dai che qualcuno correrà di là Qualche bolt No è uno dei nostri Bravo Ma mi piacciono soprattutto per le prestazioni Ma purtroppo Sono più bravo a letto Ma 10 minuti che gira Poi trovo qualcuno Ho dato una persona sola E' che li siamo Ah il bloccato adesso Bastardo Creatini La campagna l'ha fatta Carimo oggi in live E' Poi credo Ho fatto anche io Ho fatto tutto qui Ho visto un pezzo da gamba Ma c'è dei code Però bella Comunque così bella Poi ci partiamo Non volevo saperlo Marco Ma mi sento di avere La possibilità di giocarla Bene Poi c'è un po' di Fierce Che c'è solo Che price Eh Nargaverga Non lo so E' una pietra 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 C'è una pietra C'è una pietra E' una pietra Il cecchino e sta per la merda No, ho il cecchino non puoi Ho portato un'altra Che davvero da cecchino Ma questo non c'è proprio lo spazio materiale C'è un punto in mezzo Trove un punto in mezzo Si è da giorno Non a me da giorno To'na me Ma non è possibile Ma ragazzi ma sparo Pringles Ho capito Tra l'altro il sesso è fantastico, sì. Ma quello? Camperato sul balcone? Vabbè. Tu ti stai camperando. Camperando in molti se gioco, ho visto. Ma perché è proprio un altro modo di approcciare... Queste app sono un po'... In parte questa è secondo me il più comodo per proprio giocare a coda normalmente. Stiamo. Stai qua dentro, eh. Quanti colpi devo fare, però. Non ha senso questa cosa. Ok, sono due lì dentro, eh. Arca, buttare! Il secondo non l'ho visto. Anche io ora mi sei l'anno alto. Anche hai messo il caricatore. Ma dai, il tuo cadavro mi ha parato i colpi. Eh, credo, purtroppo. Come? Eh, sì. Andrei di qua. Mettine un cecchino. Ma pensai di fare. Arca, buttare! No, cecchino, lo sapete. Chi è? Eh, niente, cecchino. Vado via. C'è il cecchino. Quello scilante. Non ho fatto, niente. Vado via via! Con la claim. In realtà c'è un bel modo di potercire. Ci cecchino anche il mitigliatore. Perché c'è il... Il greco della caverna. Ti fa vedermi i principali. Vedo come si chiama. Ma porca miseria. Dai, eh. Ho visto uno. Ah, vabbè. Sto mancando sempre. Ok. Tant. Ma va... Non è possibile che sto mancando sempre, però. Eh, no. Proviamo un'altra arma. Proviamo quella leggera. Mamma mia, 3. Niente, lo farai dentro la casa da un quarto d'ora e sta lì. Niente. Vabbè, senti. Oh, Dimitra io, se non faccio la gare. Imbarazzante. Nel senso. Buonasera, c'è un'elicottero. Dov'è? Ah, l'elicottero è un po' piccolino. Le hu. Le hu. Medi salissimi. Non posso avere preso l'inguerra, è prohibito. Eh, vabbè. Prendono a casa, poi. UAB in attesa. Richiado ricognizioni aerea. Diato. Bah. Ho tirato io. Sono da sopra. Ecco, fate... Eh. Negozio di tappeti. Eh, eh, come fa a capire quali è il negozio di tappeti? Parca puttana. Sono tutte uguali, ste case. Grazie, grazie. Ma, eh, se ti viene, se ti va niente. Velo conti, quanti... Non so, troverai connessione. Troverai a me. Non c'è altro nebo. Eh, no, no. Non credo sia dando problema. Eh, c'è il caldo, nepporto. Eh, sì. È giusto, uno da finestra, uno da sotto la porta e uno da fuori. Io lo vedo bene, perfetto. Sono tutti nella casa da piccolino e da sinistra, comunque. È incredibile. È sempre lì. Ma c'è uno dentro da un quarto d'ora, da quale inizia della partita. No, quello no. Quello è stato ucciso. Ma mi sa che hai trovato subito, proprio. Eccoli qua! Eh, sì. Non è male il COD. Bisogna solo farci la mano. Poi noi non siamo bravi ancora, quindi... Non si scleri perché COD. E poi devo crearmi una classe, perché così... Fai alle spalle! Ma come ho fatto alle spalle? Sempre ovunque. Io lo vedo benissimo anche da te. Ma no, va bene. C'è anche bene il telefono, non lo senti doppio. Siamo mai, eh. Aia! Che paura di audio, questo fucile. Faccio così. Ah, e va bene. Arrivandoli lì? Ah, adesso ho io da casa, maledetti. Eh! Tanto tu ci muori subito dentro, vedrai. Ah sì, Marco. Probabile. I vecchi COD. Tu sono perso vicino davanti qua. Comiglia un po' agli vecchi MW che c'è stato. Molto bello il mio 4.5 consiglio, perché è davvero stabile. Adesso sto, mi sto trovando bene con quelle leggere. Ah, le spalle. Starby. Poi. vera, ma non è invisibile. Che vero. Preso uno con la Claymore. Ecco, che ci vuoi fare? Che paura. Paura. Grazie mille, schigge. Fa due anni. Grazie mille, bellissimo. Ti puoi cambiare l'equipaggiamento le... Ah, ecco sì. Alle spalle poi entro adesso, eh. Occhio. C'è un bastardo qua, eh. Ok, è andato. Gravissimo, anche. La destra, la destra, la destra, la destra, sono. Che concentrazione, ragazzi. La cosa che sparano... La cosa che sparano dagli elmi, mi dà sempre fastidio, mi dà sempre fastidio di mappare sempre con questa roba qua. Perché vedo del metto e mi spara dall'occhio, mi spara. Ma era lì, tutto bene. Ho fatto un errore. Prima almeno. Ho fatto... Ho fatto un errore, Marco. Ho visto una Claymore, io ho sparato. No, c'è troppo vissile e sono morto. Siamo così. Io non posso... Ah, tutti qua, sono perfetto. Arrigo il bombardamento, in teoria. Le spalle? Non posso dire. Ahhhh... Eh, te ne ho perso. Oh, non riesco a giocare. Ho già fatto meglio di prima, almeno. Sì, è un'arma con cui mi trovo. Tu non chiedi fiori oggi, basta. Eh, ho fatto quelle lì, tu basta. Questo mese il... Il... Il giveaway di Steam Gaming. Almeno su questa mappa no. È già finito. È finito, no? Non c'erano altre kill. Eh. Io sono attivo positivo Aspetti che il prossimo mese Magari esce un altro di Stangaming Che li puoi vincere se vuoi Tecnicamente Devo crearmelo Non ho ancora le classi modificate Come no? E che non l'ho ancora fatto Ah devi farle Eh si è per quello che A me segna l'accessorio Ah questo È vero ma adesso c'è tipo Nel gioco di prestigio adesso non è più Nelle tre lì che scegli nella classe È proprio nell'arma Che in basso c'è specialità Devi fare sì Si chiama prestigigitazione Adesso si chiama Complicato Prestigigigitazione Ah vabbè c'è chi da cambiare Questo Mi hai fatto venire un colpo Pensavo stesse partendo una partita Cretino Sì che sta partendo una partita Ma tu mi hai fatto pensare Hai urlato Ho detto Dio stai iniziando Ah ma poi sentivo il tic tic Pensavo fosse Vabbè però va bene Ho messo l'fmj su Sì Ho detto una moncina per il piacane Prestiti di registrazione Difficile dire anche quello Riproviamo il nostro nuovo rpd Che non è l'rpd Non ho capito Il cane che ormai è Il cane che ormai è Non è un'arma Poi puoi usarlo come arma Lo mandi Morde il culo agli avversari Ah questo Bene Pesanti No grazie Pesanti Mi piacciono Sì Non avremmo E' un rumore Riccotto di merda A 5 punti Ma siamo in tanti Che ho sbattuto sul muro Perché andiamo a squadra Abbiamo preso la via più lunga No cattore difendi le bandiere No E' una scena in 10 siamo Mappa nuova poi Sì finalmente Ma che mi raccomando Sfondiamo i culi Eh ma io non le conosco Poi stiamo Ah non ho messo le granate Ma anche io le conosco Non c'è un caso Non c'è un altro Ragazzi non c'è Non c'è un altro 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 Ma che sono anche un sacco Di interni e esterni Un po' un casino Spero io Spendo B Sto arriveranno adesso Delta? Ah sì Sono a sinistra Ok Sono a sinistra Marco Uno l'ho ucciso Delta sono Io ho impresso Delta Quarca puttana Ma il drone personale Non ho ancora capito Cosa cazzo porta Lo dirà Ah mi guarda intorno Ma fico Che Porca vacca L'ho visto C'è uno Nell'edificio Eccolo Bastardo Ah le spalle C'è un'entrata Qui Ovviamente La mia cazza L'abitudine di ricaricare A ogni volta Non c'è un capito Ma anche un po' Un po' Grandicella Messo di un code C'è una più un battle Ti sembra Porca vacca Sì si può anche adesso Inx È enorme Infatti Sto Lo vabbè però Dai Sto uscendo tutto il giro Da lappe Il Mark Per arrivare Da Dall'esterno Ok Bravissimi Bravissimi Si può andare Dove sta andando Eh lady Però uscire fa bene Dai Mi canto Dai Oppure esci Fai le 23 Di mano a giudali Guardi a lei di Morelli E fanno culo agli altri E così fai Era uno qua Ce n'era un altro Direi Però sto pronto Ce la capito Eh made evil Poi la recupero anch'io Perché probabilmente Non lo prenderò Perché non lo voglia Di giocare sulla playstation L'ho staccata E quindi almeno Me lo guardo da lui Lo recupererò in pasta Comunque in questo momento La mia partita è già Intonto per la mappa E niente Appena detto Proprio tre punti Intonto per la mappa Sono tutti qua Sono Stato Stato Staticamente mi piace Però Lo so Sì C No Ucci No E' in mezzo Tra Sì Fiume Aia Aia Sta prendendo Ma com'è che lui Mi tirò un pugno Muoio Lui C'è una B Eh dobbiamo tornare Ma che c'è un altro Death Stranding Non lo giochi No Guarderò Un walkthrough Guarderò Un walkthrough O roba del genere Poi è anche bello come gioco Poi l'ho mai visto Infatti che vai Non è attivo Ma siamo sicuri che c'è Abattel Royale Cosa? Abattel Royale Cosa? Cosa è su Pod? Pod Non c'è sicuramente Adesso attualmente non c'è Ma siamo sicuri che poi esce Perché non ho mai sentito Ma non mi interessa niente Ragazzi Beh Quella dell'altro POD non è Nel balaccio Non me ne sbatte Vi giuro No Nel balaccio Abattel Royale Ma han proprio rotto le scatole Non Non Ho visto anche Le skin Dei Ci sono molti player Le sblocchi Ma sono tutti a C Sono tutti Sono tutti a C E vanno verso E Mark hai visto? Chiusi molto la switch Astral Chain Io l'ho iniziato E mi sta facendo un voto Non ce l'ho Astral Chain Non ti ha fatto molto bene Tutti quanti Non ti ha fatto Non lo volevi Mark Astral Chain Ma non ciò che volevi Spero di sì Astral Chain Sì ma non ce l'ho Però non l'ho comprato Non ce l'ho andato niente No Ah Esci maialino Robino arrivo Più che altro Una BR su code È solo una versione giocabile Di una guerra In Siria Questa mappa Non mi piace Perché è troppo grande Comunque Non sto giocando Per niente Beh O davvero Le metti 16 persone Contro 16 Piuttosto Ma questi Che cosa Madonna Molto bene Amore Sto riuscendo A fare un cacchio Io Andare su Magari riesco A beccare qualcuno Stiamo in vattaggio Quante saranno Le prime A conferenze Sì E' un altro Hai preso Qualcosa Ma la Claymore A cosa serve Porca vacca Ho preso Un testo Qua Ce n'è uno Che camper Tantissimo La dentro Eh Tinnos Non puoi Non è che siamo Un gruppo Una boy band Non funziona così Mi spiace Ma c'è Ci sono altri Sì Quindi ci viene Il pezzi a 5 E ci torriamo In tirico E to Massimo Ti posso dare Un braccio Sono tutti a B Adesso Mi sa Ah infatti Una spalla Niente Sì Tu devi fare il rassi Marco Eh Eh Sì Ma in game Casting Modificarlo anche in partita Ma davvero Sì E' un Equipaggiamenti Modificare canto C'è Spesi sopra Aspetta Sì Mi provo sempre Per farlo Per il casting E prendiamo Uno solo E' un lavoro Nel casting Sono 10.000 euro Ma quello è sempre Arcarca Porca puttana Il buco Il camper Io I veri Come vuote Sì Ma sì Mi piace così Ma c'è un code C'è Ma Ma ci sono i veicoli Sì ci sono i veicoli In questa mappa Più grande Ho visto Cosa E io E tu non ce l'hai Si vede Eh no Lo compri Comunque su D Sei riuscito Su E Arrivo Io Dico Vado a quel punto L'A Entracciono tre persone Ogni volta Ma prendere A Guardi Questo giro là dietro Vi faccio Ma che paura Schifosa No Stiamo perdendo Per pochissimo Amici Non prendetelo In giro Però dai La prendere A La prendere A Ehi 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 E' 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 Un quad Potevo prendere A Eh no Mi hanno perso No Stavo prendendo A Per poco Però per poco 7-9 8-6 Beh me l'ho finito in positivo Sto prendendo A Pocca Pucca Ero partito bene Poi tra che non li vedevo Mi ammazzava Quindi Sono infatti Poi lo stesso Che bella questa Mi ricordo Mi ricordo come facendo Bellotto Io soffro lo stress Io lo 12 Cosa l'ho sbloccato Con un sottocanna Drogato E no E' sotto Vabbè Non è che se te la fumi Col sedere Allora Non sei un drogato Allora Fammi mettere Ah Posso già venire Incendiarie Perché Mitragliette effettivamente Non ne sto provando Provo l'MP5 Uh ho sbloccato l'MP5 Con chi adesso Marco Ho sbloccato l'ultimo Provo 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 Via Lancia fiamme Sì lancia razzi L'MP5 Non è l'MP5 Non è l'MP4 C'era l'MP4 Forse Unico libero Ancora sta mappa Oh basta No era l'MP5 Proviamo l'MP5 Manco cosa vuoi io Mi ricordo L'MP5 Tempa le stesse mappe Perché c'è incredibile Perché puoi spiegare Questa mappa qua Di nuovo Farberi con la plastica Ma cos'è Ah la bomba questa Oh no Merda qua bisogna ritirarsi La gente Eh no Non stia su di cazzo Guarda la bomba E' a destra solo Caracca Lo so molto io Devi spararmi Va bene ma Mi ricontriamo diritto E' a destra E' a destra Si sta 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 Occhio Vai via Non viene con te Nessuno Si Ma il P90 mi piace Eh Non tanto Preferisco l'MP5 Ma ci sono 4 matte in croce No che ci sta capitando Sempre quella Boh Mi sblocca più alto Io sono in live e tutto Non mi sta dando Veramente nessun tipo di problema Pensavo avesse più casini Invece Sono veramente fluido Adesso neanche a me Comunque sta andando Vabbè voi non lo vedete A 60 frame Perché non si arriviamo A 60 frame Però mi sta andando Veramente perfetto Io ho fatto una kill Ehm Ah io non so Se è bello Lo fare Si ci piace Il Cotto Però si Che è dura Perché ogni volta poi Che bello Il Cotto Con due Più giuoti Sembra di coglioni Magari Mi sa giocare un po' Più tattici Eh Pensavi che non l'ho visto Pensavi Ma l'ho aspetta Dov'era? Cazzo Ho fatto la kill L'ho fatto Mi è andato a tirarmi Come su COD Ottimo Mi veniva a fare Come su Rainbow Che facevo zigulire Ma non suoi tasti Ma tu non avessi fatto Cerchi di distruggi No Non è Cerchi di distruggi E' informatico Ehm 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 Non c'è nessuno Che palle Eh dai C'ha poca vita Quella Vincere da porti In realtà questa modalità Non mi dispiace Più di tanto No però E' molto più strategica Ma Ho bisogno in testa Ma Ma che puttano? Ho bisogno in testa Ma Siete morti tutti Ma che cazzo Ma tutti qua Stanno uscendo invece Azzurri 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 Io ho preso in testa Ma non è morto Ma non lo so Che scarico Sì Yes E' appena morelli A scaricare il gioco A fare manca dei spec ops In quattro Ah sì Assolutamente E' una brutta cosa diventarlo Penso che è sempre stato così Tutto imbecido Ma che sai tu Ah mi sta tirando su Ma è che rischio Ma lo dico ancora Non è che lo dicevo Appunto Io ci provo eh Prova No 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 Dai sto Dai Mi hai fatto credere Mi hai Mancava veramente Niente a mezzo secondo No Ti ha su Ti ha su Giuziano Lui è bravissimo eh Eee Veramente bravo Porca va Farca volta Eh vabbè troppo Eh Troppo Eh Ha fatto curvo di noi Carichiamo sempre Ma con la pistola Io non so se spararti O bannarti Tra la chat Ma chi? Non so cosa fare Attacco informale Eh Crediamo che speck ops Continuiamo Speck E ti cattare Di si ops Guarda Non lo so Non puoi commentare Questa cosa Terribile Acquisire Qui ti trova a giocare A tricky tower Con mare No Quello è un privilegio Il mando Non so se avrei fatto un giù Cioè se avrei Troppo facile Vissare Nemico Quella parte Non è Impossibile Ma è che è una mitraglietta Da dove? Sì no? Ma perché non lo vedevo Lui mi ha visto Quando ti spara Quando tu lo sparano Non li vedi sopra Se non li vedi in ogni mappa Ma li vedi sopra C'è la bussola Quando spari E ma non A parte che non ci faccio Devo abituarmi anche a Ma eh sì Non è facile Bravissimo Io con un mirino del genere Non so se mi troverai bene Inversione per Amici è arrivato il momento Ci giocherai bene? No Dipendere il cecchino Così almeno ne sblocchiamo Ma qui Pazzo Voglio provare Questa mappa Non ha proprio senso Voglio provare Vogliamo provare Il ponte Lo ho fatto oggi una volta È bellissima E non c'è Eh vabbè Questi accecanti Del cazzo Porca vacca Capito Questo è l'inizio Di mappa Che è sempre un macello Di grande Che esplodono Casino Cioè Tutti è dentro Sì a sinistra La mia casetta Niente Io sono morto Niente Marco Marco Ti vogliono tutti È veramente lento Però sto fiscino Non si può fare È il dog Un obbligo base Ma non lo so Sì sarà quello lì Ma è fregare Marco Non c'è te anche No ma non ho colpito Neanche nessuno E qua poi Mi hanno cerchiato No se non metti in testo Non scelto Il cicchino Non posso neanche Non fai niente Non fai Voglio riprovare Ho sbottato il cicchino Io fortuna Riproviamo Voglio tornare Ai fastidi un tempo Siamo 4-1 Marco Così Marco Punto Se non provo adesso Mi evidenzio Bravo Ma qui Va bene Ottimo Ciao L'intervento dei danni Positivo Pensi Ma non si gioca neanche C'ho la Claymore Me lo devo riportare Inutile andare là Che tanto poi esplodano le granate Siamo fuori Grazie 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 Caffè Stratto Almeno 50 euro Ragazzi Grazie Caffè No no Basta Devo anche camperarmi Farca Che paura Ma quella Quello sdraiato Ma dai Ma Questa è un'altra modalità Ma una cosa Guarda Anche io certa Eh ma Vinci se Perché c'è Chino Quello base È una merda Cioè Spara davvero I piccoli pezzi di Che altro è lento È veramente lento Non è comodo Per nulla Spara pezzi Di Di pasta Stanno Non è Potete rientrare Spara come si chiama I ligatoni Sparano La pasta Proprio quelli No Cosa Non cambierà mai Eh ma in questa modalità In questo momento Può succedere Eh ma devi camperare un po' In questa modalità Cioè non camperare Per andare lento E questo è un po' la campi strike Se ne distruggi Quindi deve essere un po' Tu po' stealth Fa troppo casino Spara fusilli Spara fusilli Bene 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 Togli un po' le modalità Bru Togli anche Tacco informatico A questo punto Basta toglie Quei durai Tacco informatico E non Non sapevo come si faceva A dare dopo la schermata E distruggi Spesso Finiti i raggiamenti Questo Allori Ah ok Termo solo a dirmi Che il mio primo Videogioco è stato Wolfenstein 3D Molto bene Wolfenstein 3D? Io non l'ho mai giocato Wolfenstein Ah scusa Eh non l'ho mai giocato Non lo ricordo Quale è semplicemente Allora A me è venuto in mente Era tipo Come gameplay Era tipo Doom e Duke Nukem Può essere Quella 3D Però è quello Ragazzi Vi rendete conto Che viviamo in questo momento Vi sto scrivendo un messaggio E lo state leggendo Che passi avanti Che farà la tecnologia Sì 3D Ah ok Sì Primissimo Primissimo Ok perfetto Io ho soltanto anche io quello Allora Non mi ricordavo se si chiamasse 3D Mi chiamavo Pensavo fosse un altro nome Guarda Posso cerchire Posso usare Ho un cerchino nuovo Vai Io ho preso questo Che c'ha l'FMJ Ma Vai Perché mi ha tolto le Ma che Poi Mi ha scritto Mi posso non apparto Scusami Fico Nemico Raffaella Fico Non la voglio come nemico Se è possibile Grazie No Era un pezzo di cacca E niente Ho sbagliato io Sono distratto a destra Che non c'era bisogno Sparavo dritto E li ammazzano Questa prima ha fatto 21 kill Quindi Oh Ma ti No Ma che bloccecchino Marco Ma che bello E' il secondo kill che c'è Lo sblocchiamo anche velocemente Ma che bello Che Devo sparare il preso Sennò vuoi Il prete che li massacra la faccia Il prete che li massacra la faccia Ma cosa dici Corrietti dentro No Marco C'è Non usarlo Mai Ma Sono impersoni Vabbè ragazzi Va bene Allora Facciamo così Che paura Ogni volta Eccoli No ragazzi Non andiamo da gatto Dobbiamo Dobbiamo fare No ci vogliamo Quanta gente No si Io non ci sono Ma sapendo Possiamo un'altra Ma porca Ma porca Ma questo non è dominante Voglio fare Non c'è squadre Eccolo Quale porca Che botta Siamo qua sotto Ma non è morto Come è possibile Non così Guarda Muori Uno qua sopra Posto Amore Camperoneca C'è un altro Camperoneca Un altro attacco Grappolo Credo di essermi ucciso Col mio Bisogna Craymore Arrivederci Sono sbagliati In questo momento Arrivo Marco Arrivo Questo Mi passa davanti Senza vedere Porca Puttana Che paura Casino Sto Quanti kill Bravo Dio Questa mappa Mi trovo benissimo Questa mappa Spariamo sto bombardamento Ma cos'è sto bombardamento L'azio Mi che l'ho capito Ehm Crap Tipo Paridissimi Il punto dove hai messo Ah ok Ma non mi piace Devo cambiare No ma ancora Non puoi cambiare Non puoi cambiare Non puoi più che non sai Di livello Non ci sono altri Non è vero Eh vabbè Pazienza Caputo ho sbrutato L'obb inizio Dai Porca puttana Che paura Vabbè Prendo Ah Ah Tu Marco Sta posto? Si Ciao la mia stampa Scade il 13 Molto bene Grazie mille per i tuoi soldi Eh si più soldi Invisibilità Quella lì Intangibilità Eh troppo Quella Quella Killstreak lì Vabbè Hai visto Mario Merda Ah non vedo più nessuno Comunque Eh forse non hai gli occhiali Non li metti mai Oh che bella rubata Un po' gli occhi Marco Sinistra l'ho sentito casino Bevo io Maia Dopo Dalle spalle Porca dalle spalle Porca dalle spalle Maledetto Porca dalle spalle Una porca dalle spalle Porca dalle Marco L'hai ripetuto Fiscarmi i segreti Basta Fiscarti i segreti Ben ditto Stai No Che si certo Questo bombardamento Scappato di casa Ma vi sono tutti Scusa Ma Non è possibile Che non è morto Quell'uomo lì Ciao la mia sal Non scade Grazie Questo mi rende Molto contento No Questa cosa Non è una granata I soldi per me Hai capito Animale Non scade mai la sal Non è possibile Di prendere il male Eh si Non scade mai La fine Ah Fai pieno di geni Faccio così Mi ammazza due Inoltre Sembra che non posso niente E vaffanculo Vabbè Meglio per me Dai Ma non è morto E allora 5 euro Ah mi hai vinto Meno male Guarda Perché sono Spaccato 8 kill 8 kill E proprio Schifo Vabbè 11 kill 15 punti in più di me Scusa Eh 15 punti in più di me Siamo uguali Ah ha fatto più assist Come si fa Non mi si attiva Vabbè Sono 52 Possiamo fare un'altra Se è un deathmatch La CR Non mi ricordo Se c'è con questo L'avevo guardate le armi Prima Un calcio leggero Un calcettino Caserma Ho sbloccato Caserma L'emblema è sbloccato Un calcettino Il muro ha fumetto Da solo Non vedevo L'avevo Sbloccato Per l'arma Va bene Ah Mi dispiace L'HDR andava bene Come c'è Chino Sì Ok Tutto oggi Ah no Aspetta Sono delle serie Decisioni nuove Ecco forse La torretta Ma come Vediamo Un calcettino Incredibile Proviamo Sto cecchino Anche se boh E' un pallino Verde Un calcettino E' un calcettino Non capisco C'è di un luogo Ah ma si bug No Speriamo che non duri Troppo Che se no Non ce la facciamo Elicottero da salto Elicottero di supporto Cosa carmi E' un elicottero L'elicottero di supposta è quello che ti... no? E invece quello no, l'altro no. Molto bene, Tinnus. Cazzo, Tinnus. Ma al contrario l'hai fatto, gioco? Perché fastidio? Non ero un... Ragazzi, vedo che siete stati chiamati al dovere e avete risposto. Sono fiero di voi, io invece... Andiamo a casa, non so a parte, mi sa che guardate. Ma che scendiamo dalla cipura. Anche dico un po' di raffreddore, perché se posso andare a casa, senti in mente. Gli Ezer mi siamo proprio preso. A me sembra un po' Andreotti oggi, lo chiamo. Ma guarda che mi sta piacendo veramente un sacco, mi sta piacendo. Adesso che riesco anche a sentire bene e che mi va bene, va. Giocare senza lasciare. Quella è la persona, dentro dal container! Aio! Ma vai a capire, non c'è neanche per mirare veloce col cecchino, come Quicco. Non posso quiccare. Ma sta mappa la odio! Questa è la prima volta che la faccio, io questo. Terribile. Ho visto che ti ho bastando. Siamo qua, eh? Andiamo catturando A! Andiamo catturando A! Ah, arriva Mark. Ho preso i punti all'ultimo secondo. Eh, Charlie, Charlie! Paura. Ah, non è il Charlie, ma dai! Ma Charlie, braun. Charlie, braun! È iniziare alle 23 la live stasera. Eh, sono tutti a C! Tutti! Se ne manca uno! L'appello è proprio completo, ho fatto. Che putt! Fa una sinistra, destra. Ma è possibile che non è morto? Scusa, eh? Oh, che paura, la porca putt! Ah! Sì, è un po' meglio, comunque, come cecchino, sicuramente. Andiamo avanti, andiamo avanti. Che, che, che? Ma chi è? Dov'è? Grazie, grazie, bello. Beh, dove sono tutti, scusi. Ma sto giocando la mappa, non c'è. Ho fatto una kill per adesso. Ehi, un po' che zero. Questo è passato attraverso la parete, oh! Troppi fail. No, voglio più veloce, voglio il mirino veloce, se no non mi trovo. Voglio il mirino veloce, se no sembro glaz, non mi trovo. Ma chi è, chi è, chi è? Ma da sopra! Ma qualche puttaglia, adesso puoi te. Non arriva qualcuno, andò. Allora. Ecco. Non l'avamo messo la granata. Ma ci hanno preso, ma che eravamo lì? Ma cosa vuoi essere stato detto, perché ci scusi? Sto prendendo A, eh? Eriamo tutti a C. Come siamo volti? Ok. Occhio, eh, che buono... Eh, voglio dire che ecco, infatti. Non ti buttassimo qua, è affanno. No, come me l'ha ceccato, scusa, stava sparando a te. Sono in due dietro, ovviamente. Brava te. Alle spalle, dietro, ma dai! Eh, non so, io sono morto. Ma poi si vede alle spalle. Che giro fanno arrivare là? Non capire che giro fanno. Potremmo prendere viva. Sì, ma col cecchino in sta mappa no, eh. Eh, no, è funzionabile. Bisogna stare veramente addosso la bandiera, se no non lo prende il punto. Ma se in questo quando fossero arrivare alcune mappe dei vecchi mod di Puygride Terminal, come contenuti posti... Terminal non l'avevano già messo ovunque. Terminal non c'è, però hanno messo Rasta, ad esempio. Qui avevo due. Qui avevo tre. Ma più probabilmente Terminal la porteranno A, quasi sicuramente. È un pregio A. Senti, non muore. Non riesco a capire. E io sto morendo, adesso sì. Le devo di uccidere tutti, invece ho fatto skip. Non è in fondo, però non mi so niente. Ma qualcuno mi dice quando esce guerra terrestre, non ho un'idea. Cosa? Non ho un'idea, quando esce guerra terrestre. No. Alle spalle del mio culo! Eh, l'avevo visto. Terminal... Eh, esatto, Rezucchino. Ma Terminal a me non dispiace, eh. Sono sincero. Nooo! Ma Terminal piace come mappe. Ah, un peso c'è di nuovo! Ma basta! Oh, c'è l'UAV! Vai! Sto giocando un male, un male dir poco! Porca macchia, sempre tutta! Questa è noi! Nemico! Bonte! Mottaci, c'era un altro dietro, subito. Imbarazzante, oh... Da dove?! Oggi un banco, eh! Ma ci sono passato sopra? Vabbè. Cua. Nemico, negozio sottolito! Corretta, scudo, nemica attiva! È la granata, scusami? Sono le spalle, stai andando dietro B Ho visto passare tipo lo stelto, ho visto passare Cretino Aia, 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 aia Eh, sono tutti qua, sono Sono, 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 sono C, sono Da B e C Sinistra sono, bastardi, merda Nemico o barbiere? Dove cazzo sta il barbiere? Scusa, ah, è qua il barbiere, cazzo Sono, sono io Charlie, non è possibile Ma no, sono un coglione Ma brutto deficiente Allora Eh, dovrei farlo, effettivamente Ma dovrei tagliarmi i capelli più alto Ma qui c'è una torretta, che cazzo E che fa una grata Ma cosa appunto? Sì, ho preso C Ok Ma cap- Guardate che ci metto con la mezz'ora Ci ho preso Ma sono tutti qua sopra, sono Ma che cazzo Ma lo so, 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 so Ma come sempre Un po' così Un po' così, un po' così Un po' così, va bene, va male Ma sì, riposiamo Pose Adesso facciamo un lavoro Perché sono sotto diva Vabbè Vorrei tirare anche la mia ricompensa Se è possibile Facciamo così, va Ho proteggiato Marco Attacco al grappolo Attacco al grappolo Sparare Ma quanti elicotteri, quanti elicotteri Quanti elicotteri Quanti elicotteri Eh, no, non c'er'altro Qua almeno 10-13 Ma si potrebbe far così Vabbè, ma queste dominano contro le kill No, vabbè, ma per me Sono cose mie Cioè, per la mia Per il mio Come si dice Per il mio ego Prendiamoci, prendiamoci Eh sì Ah, sono solo Eh sì E io allora Sparo via col coppio Non è stato Ah, perché un giocatore Lo comando Mi fa tutto di merda Fanculo Ecco perché mi fa il culo ogni volta Ok, l'elicottero Eh, ma zi fa Questa è tua Dov'è più schiavato di merda? Un cento porto E' andato lì, eh? Eh, sì Ma porca, ma... Ma è col padre di Peter Quilio? Non va bene, ci si passa attraverso Tra i nemici ciascun Insomma, è saltato proprio attraverso E poi si è girato Mamma mia! Vabbè Non ti sono, però, lì Fatica, fatica Che fatica Tant'altro non si lavora e si fatica Per portare a casa il pane Che cazzo è giocato No Ah, ho sentito Sono 10-13 Mi lamento Mi vuole il tempo Ma ce n'è il tempo Sì, sì, sì Ma è già finita l'ora, infatti, effettivamente È proprio volata, effettivamente, sta Guarda che canestro Eh, anch'io sono dove c'è P Non so, l'ho visto Non è di qui È di qui Eh, finiamo sta partita E basta Peso No, mi sa che sei morto La granata non esplode Ma mi sa che è anche negli altri No, esplode, esplode Io mi ricordo Mi ricordo che c'era un gioco Che non esplodeva Se morì Ma come cazzo ha fatto? E allora? Fino a vanta lo sto rivalutando No, ma è una bellissima mitraglietta Però Ma che cazzo? Va bene Allora Io posso giocare? Ma lui si chiama High and Bar Basta Oh 12.000 per, basta No, dobbiamo prendere dei punti Sarò qua Non riesco Seriamente provando Ditto, ma è difficile Che sono su Ayo Sì, proviamo a prendere quella Adesso come non è morto Paura ogni volta Ok Vado a B Questa è una granata Taglialo qua Questa è una granata Vado a B Ora, cross the map Tripla Chi è questo? Ma era una di loro Quasi Oh, è possibile Paura No, devo resistere Ma ci hanno preso C Ma dai Scusa Eh, la Claymore Dai che cazzo Io, a me piacerebbe Tornare a fare kill Vuol dire che È un dispare Ma ci hanno preso No, guarda che vincono Loro All'ultimo Eh Eh, ma sì Posso aprire il C Video Non stanno prendendo nessun Q Siamo anche in tempo Tutti fermi Camperati Sì, ovviamente Ma porca puttana Ma perché Io arrivo Lo vedo prima di lui E lui si gira Mi sciolta Ma porca puttana Ma che cos'è? Vincolo loro per pochissimi Q Non credo se è netcode O se sono io Se sono stronti O non sparare Non scapire Ho fatto un sacco di punti Ho fatto È abbastanza bene Marco, che è successo? Niente Io non ci credo Marco Sei combinato? Allora, andate da gatto Facciamo così Andate da gatto E gli dite Gatto Eh, buona fortuna Ditegli così Esatto Gatto, buona fortuna Gli Ezra lo vedo un po' interdetto Aspetta Gatto, buona fortuna Andate tutti, 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 tutti C'è un piccolo coso di Tutti, tutti, tutti Eh E stanotte, mi raccomando C'è la Livest di Morelli Come di Evil Esatto C'era un buon weekend Buon weekend e a domenica Buon weekend e a domenica Ciao Mi raccomando Stanotte con Medivor Questa sera Ciao Io sono Espit Va bene Buon weekend e a domenica Buon weekend e a domenica